Vieni qua, Carmelo. Diciamo che questa è una tecnica, è un'alternativa. Una volta che io sono riuscito a prendere la posizione e controllare l'avversario, magari per un motivo o per un altro non mi sento sicuro nella spalla, ok? Magari ci tengo bene il braccio e mi sento più sicuro nell'attaccare da questa posizione. La cosa faccio qua? Porto il culo dietro, piede sull'anca, libero la gamba in questo modo e il piede lo devo tirare verso di me. Quando più riesco a salire con il ginocchio, meglio è. Una volta che il piede ha superato l'avversario, calcio qua. La cosa importante è calciare, fare questo movimento. Però non fare questo movimento lontano dall'avversario, qua, vicino all'avversario. Chiaro? Fatto questo qua, abbracciare la testa, abbracciare il braccio qua, girare subito il triangolo e chiudere, qui, ok? Se per qualche motivo il triangolo non esce, che l'avversario si fa dietro qua, braccio decadame o l'alternativa giugigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig il clinch, posso raspare, posso fare tante cose, decido di attaccare, porto qua, la gamba rientro, la cosa importante è calciare qua, ok, aderente qui, abbasso, controllo la testa, chiudo, sistemo il triangolo, anche qui metto un po' di sbiego, e stringo, giudegatame, scusate, giudegatame, giudegatame, raspato, giudegatame, ok, provate.